Vorrei notare una cosa, per dire al regno del Dario, il siderostato qui è stato realizzato sull'ascia polare dei nostri occhi, questa è la formata, vedete, un primo specchio, un secondo specchio, un altro specchio che manda lì. Questo è molto pratico perché una volta che il telesopio è in stazione è automaticamente concentrato anche, ma questo in effetti è montato in uno specchio, però c'è una torturina, giusto, sì, sì, però un barco l'aveva già messo sul, ciò che è il suo, ci sono alcune cose che sono ancora per armi, nonostante guardare il tutto, per esempio, questo è bruttissimo, il sistema che ha i motori della cupola, sono...